Cos'è la meditazione del loto? La meditazione del loto è una forma di meditazione progettata specificamente per permettere alle persone di raggiungere nuove vette nelle loro vite personali. Le tecniche di meditazione si basano sul modo in cui un fiore di loto fugge dal terreno fangoso e sale a galleggiare sull'acqua. Durante la meditazione, la mente è autorizzata a fare lo stesso liberandosi e superando i problemi del passato e del presente. A causa della posizione fisica, tuttavia, la meditazione del loto non è adatta a tutti, poiché è difficile per il corpo e richiede una grande flessibilità nelle gambe, nelle ginocchia e nelle caviglie. La posizione del loto è paragonata al fiore di loto in cui le gambe sono incrociate e il bacino leggermente sollevato. Le ginocchia sono piantate a terra e il corpo è bloccato in una posizione sicura. Gli individui che stanno imparando la meditazione del loto generalmente praticano sedendosi su un cuscino, ma una volta padroneggiati, la posa può essere fatta senza alcun supporto. Per entrare nella posizione del loto, le gambe vengono incrociate una alla volta con i piedi appoggiati sulla parte opposta della coscia e le piante dei piedi rivolte verso l'alto. Le mani sono rilassate e possono riposare facilmente sulle ginocchia. Esistono fondamentalmente due tipi di posizioni di meditazione del loto conosciute come la posizione del mezzo loto e del loto completo. Il mezzo loto è adatto ai principianti perché richiede che venga attraversata una sola gamba. La posizione del loto completo richiede che entrambe le gambe siano incrociate ed è adatta per coloro che hanno padroneggiato il mezzo loto o sono altamente flessibili. Nello stesso modo in cui la posizione fisica assomiglia al fiore di loto, la mente è focalizzata sulla stessa natura del loto. Il loto cambia il suo ambiente passando dal fango sporco fino alla cima dell'acqua pulita, e tutte le prove del suo precedente ambiente fangoso vengono spazzate via. Allo stesso modo, mentre medita, la mente riconosce l'ambiente problematico in cui si trova. Poi, mentre sale a nuove altezze, viene lavato via dai guai del passato e gli viene permesso di immaginare un futuro pulito e luminoso. Alcuni dei benefici fisici della meditazione del loto sono una maggiore flessibilità delle ginocchia e delle caviglie. Può anche aiutare a rallentare la respirazione, rilassare i muscoli e ridurre l'ipertensione. Praticare la meditazione del loto, tuttavia, può essere pericoloso se il corpo non è preparato per questo in quanto può causare danni alle ginocchia e alla parte bassa della schiena. La meditazione del loto deve essere interrotta immediatamente se durante la sessione si verifica dolore.